rocker tv a lezione con io sono Andrea Botte dei pancreas e oggi volevo parlarvi di ska, questo sconosciuto almeno era così per me quando ho iniziato a suonare con i pancreas nonostante avessi lavorato con molte band ska io faccio anche il fonico il tour manager quindi diciamo ho più ruoli e lavoro a 360 gradi nell'ambiente musicale e nonostante soprattutto ascoltassi molte band ska non l'avevo mai suonato quindi nel dover imparare la discografia della band è sicuramente la cosa che mi ha mandato più in difficoltà e dove li avevo tutti un pochino un pochino più addosso perché magari mi veniva meno spontaneo soprattutto non solo suonarlo ma il muoversi mentre suoni una cosa che sembra una banalità e non lo è per niente chi mi ha visto dal vivo io sono uno molto viscerale salto corro faccio sudo lancio mi piace far così con lo ska sembrava che mi inchiodassero un pochino i piedi a terra perché ci ho messo un pochino a farlo mio appunto ma soprattutto il giorno in cui mi hanno chiamato i Vallanzasca perché il buon Lucius chitarrista appunto dei Vallanza si è rotto il ginocchio e non poteva prendere parte al tour mi hanno chiesto di sostituirlo e io ho avuto tipo cinque giorni per imparare 21 24 pezzi dei Vallanza non me lo ricordo una prova la scaletta durava quasi due ore la prova è durata un'ora e mezza perché i tempi erano risicati quindi ero totalmente nel panico no perché l'esperienza sul palco ce l'avevo però insomma ero bello nervoso e agitato perché era un argomento è un tipo di sound è un genere musicale che non sentivo proprio nelle mie corde come chitarrista invece me la sono cavata bene almeno così dicono gli altri e mi sono sbloccato e infatti qual è il messaggio di questa pillola lanciatevi ragazzi non abbiate paura osate provate anche quello che non sembra vostro che non sentite nelle vostre corde che non vi viene naturale poi vedete i risultati non tutti siamo bravi a fare tutto questo è sicuro però se non ci si provano lo saprai mai rocker tv a lezione con